Alla fine dei 90 minuti conta il risultato e noi oggi il risultato abbiamo portato a casa zero punti, quindi non lo so, ci troviamo sempre qui a dover commentare queste cose un po' incommentabili, perché prendere tre gol dopo che ho fatto 70 minuti dominando secondo me la Juventus, prendere tre gol in quella maniera qui è una cosa che dobbiamo riguardare perché non è possibile. Proprio su questo pensi c'è bisogno di più di lavorare? Sì, assolutamente, ma su tutto c'è da lavorare perché come abbiamo detto stiamo facendo questo processo insieme al mister, però poi ci siamo pure un po' stancati di dire sempre che siamo in processo, quindi speriamo che questo miglioramento succeda nel più breve tempo possibile. Hai detto stasera che per te c'è un rammarico doppio. Sì, c'è un rammarico doppio perché l'emozione, il feeling, la felicità che hai segnando il 3-1 di una partita in casa così importante, poi prendere tre gol e poi avere la possibilità di rimettere un pochettino verso la giusta via la partita perché dopo il mio rigore c'erano altri dieci minuti, quindi insomma sono tanto dispiaciuto. Mi dispiace per i miei compagni perché probabilmente avrei dato a tutti quanti, me compreso, un'altra possibilità di rimettere a posto le cose e purtroppo così non è stata.